Qui è la Terra che parla. Sì, dico a te. Cerco persone con la voglia di costruire un mondo più accogliente, dove non esistono scarti, ma solo risorse a cui dare una nuova vita. Ora puoi dare il tuo contributo anche tu. Accetti la sfida. Our boss is calling. Noi di A2A abbiamo risposto alla chiamata. Lavora con noi e partecipa al cambiamento. A2A Life Company